Non è una cosa che ci aspettavamo, è una cosa che nessuno penso potesse prevedere fosse così. Abbiamo pensato che giustamente non durava molto, abbiamo detto sicuramente sarà una cosa di un paio di settimane. Poi abbiamo visto che le cose si allungavano un po'. Sul momento non sapevamo veramente cosa fare, anche perché effettivamente non ci si poteva muovere molto e i fornitori non riuscivano a farci arrivare il prodotto, i vari corrieri non viaggiavano molto, non si spostavano quasi più da regione a regione e lì c'è venuta l'idea, appunto, visto anche che i vari messaggi che ricevevamo dai nostri clienti, di cercare di fare qualcosa per loro. Grazie a tutti.